E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning with Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte e andremo ad approfondire la giornata di ieri e la notte appunto che abbiamo appena passato perché è stata estremamente interessante abbiamo un sacco di cose da dire, sono usciti i dati sul CPI e capiremo come si andrà a direzionare molto probabilmente la politica monetaria della Fed nella prossima settimana ma come sempre prima di partire vi invito uno, quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse, di vostro gradimento a me aiuta tanto col canale e mi fa capire che vi fa piacere ricevere questi contenuti sempre, anche in bear market, tutti i giorni, insomma in vostra compagnia vi ringrazio sempre per il supporto, date un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione con gli sconti più alti del settore sui servizi che utilizzo personalmente aiutano il canale a sostenersi e in più è un win-win con voi avete questi sconti insomma detto ciò non perdiamo altro tempo e partiamo partiamo dalla prima news che in realtà è un po' un rumor che un po' tutti l'avevano sentito diciamo così in rete anche su X, chiamalo così appunto riguardo una transazione bitcoin che ha pagato delle fee esagerate cioè ha pagato 510.000 dollari in fee che hai pagati in bitcoin circa 20 bitcoin se non vado errato questa transazione è stata eseguita a causa di un bug, di un errore nella tip che va inserita all'interno del blocco e a tutti si chiedevano insomma chi fosse ecco il mittente di questa transazione che ha pagato così tante fee bene che è saldato fuori che è paypal in realtà paypal stesso in un update proprio di questa notte va a specificare che in realtà non sono stati loro quindi scaricano un po' il barile su quello che è paxos dicendo è paxos che ha pagato questa over fee che non era prevista e che ha impattato solamente paxos tutti comunque i clienti non hanno problemi per quello che riguarda i fondi i fondi sono a sicuro e paxos è già in contatto con il miner per recuperare i fondi infatti il miner si era già reso disponibile più volte insomma anche su twitter o x per andare a restituire la parte insomma eccedente magari ecco avrà un bounty per questa buona volontà però insomma è anche un bel gesto insomma non andare ad approfittare di tutto questo probabilmente non è neanche bisogno mettiamola così questo miner in ogni caso appunto è avuto fuori che si tratta di paypal quindi indirettamente anche se indirettamente c'entra paypal e ha fatto un po' ridere un po' questa cosa dove non sono stati in grado bene tra paxos e loro nel coordinarsi in questa operazione altra situazione invece molto importante da tenere monitorata è che finalmente abbiamo parlato di mercoledì come data finale bene il giudice ha approvato quella che è l'ordine esecutivo per andare a liquidare quelle che sono le giacenze di ftx quindi tutto i 3.4 billion ora ci sarà un tetto un tetto di 200 milioni settimanali token by token quindi token per token e soprattutto sembrerebbe che vogliano insomma andare a creare un meccanismo un po' di edge su bitcoin e ethereum per minimizzare l'impatto nel movimento dei prezzi ora mi sembra un po' fa un po' mi fa un po' ridere nel senso che più che bitcoin e ethereum bisognerebbe capire come fare a dampare altri token tra cui serum abbiamo visto estremamente il liquido solana già più liquido ma comunque ha più problemi eventualmente a livello proprio di volumi come è ovvio che sia essendo un altcoin eccetera eccetera staremo a vedere sicuramente potrebbe eseguire anche un po' l'effetto contrario cioè esserci un sell the news scusatemi un sell the rumor by the news un po' al contrario se volete cioè abbiamo fatto una vendita sul rumor del fatto che che appunto ftx debba dampare andiamo a comprarci la news e un po' quello che è successo poi lo vedremo sui prezzi in ogni caso è una situazione da tenere monitorata anche se ormai sappiamo che è interna al mercato cioè tutto quello che è noto tutto quello che sono queste notizie che adesso vengono rese pubbliche sono situazioni chiare vengono apprezzate dal mercato cioè vengono inserite nel mercato soprattutto per il breve e medio termine non tanto per il lungo perché sono comunque cose che nel lungo non interessano particolarmente ma nel breve e medio termine vengono influenzate un po' come mt gox se vogliamo vengono già inserite nel prezzo da un certo punto di vista questo è la regia dei mercati come funzionano i mercati quindi dobbiamo tenerlo a mente andiamo a vedere invece quelli che sono i dati del CPI americano ve l'ho twittato ma è importante tenerlo d'occhio perché siamo al 3.7% il consenso abbiamo detto che era un 3.6 e per la prima volta negli ultimi sessioni negli ultimi mesi siamo andati ad avere un valore rilevato più alto del consenso 3.7 anche se in realtà non è niente di particolare cioè siamo rimasti lì 3.6 3.7 insomma capite che non è un valore che si discosta in maniera estremamente diversa ecco da quella che è la previsione e infatti quello che ha fatto il mercato è non muoversi particolarmente non andare a darci soprattutto sul mercato cripto parliamo dei dump ma anzi ha continuato un po' nella sua nel suo movimento di cui aveva già iniziato a fare nella mattinata il prezzo attualmente vabbè è sosta sui 26.2 ma ce l'abbiamo tra poco la cosa interessante è vedere come ha reagito questo CPI sui dati per l'OFOMC del 20 settembre della settimana prossima bene ha reagito in effetto proprio di conferma del no change cioè il mercato al 97% si aspetta nessun incremento per la prossima sessione e per un 3% un incremento di 0.25 praticamente hanno per scontato che per il 20 settembre la Fed manterrà questa politica questi tassi che già vediamo cambia un po' il discorso per la prossima seduta ancora quello del 1 novembre dove addirittura entra in gioco un 1.2% di un incremento di 0.50 addirittura rimane un po' un 50-50 vedete 56% no change anche qua rimangono fermi 42% up e più 0.25 per un 1.2 più 0.50 staremo a vedere insomma è abbastanza presto perché se vi danno i dati del CPI successivo bisognerà capire cosa fanno in questo chiaramente si chiama abbastanza speculativa tutto questo però è interessante vedere proprio l'outlook che ha il mercato per quanto riguarda appunto questi tassi andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore troviamo Edera che fa un più 8% Thor che fa un più 8% Curve un più 6% Miota un più 5% un più 6% anche lui Solana recupera un po' un più 5% Maker un più 5% Vnetwork un più 4% Fracshare un più 4% Compound un più 4% insomma abbastanza alcoin che sono andate a fare un buon gain tra i losers nulla di particolare altra solo 3 da segnalare Clayton un meno 6% Astar un meno 6% e Flair un meno 4% poi niente di particolare meno 1% meno 0% non sono neanche degne di essere dei losers perché sappiamo come si muovono le alcoin in questo settore in ogni caso Bitcoin cosa è andato a fare è andato a fare perfettamente a textbook se vogliamo ad analisi tecnica cioè pescare liquidità andare a fare questa lag di continuazione in questo momento abbiamo trovato dal nuovo su resistenza sulla 26 ok giornaliera EMA 1 2 3 per il momento siamo su 26 188 ma giornata appena aperta e Bitcoin deve riattaccare a mio parere non tanto la 26 non tanto i 26.8 ma almeno recuperare la media della 200 EMA giornaliera che va in prossimità anche della 50 EMA giornaliera che ci ha bloccato già qua lo vedete molto bene ora magari vi metto il pennarellino così lo capiamo qui ci ha bloccato qui ci ha bloccato è una media importantissima che dopo che abbiamo persa qua sotto i 30.000 dollari ci abbiamo ondeggiato abbastanza e poi ci ha spedito giù e non abbiamo più non siamo più riusciti a recuperarla quindi già qua diciamo andare a evitare un cross ribassista tra 12 scusate tra 50 e 200 sarebbe estremamente importante più la media mobile ricordatevi è ampia di respiro e più è importante quindi è sicuramente una condizione utile in analisi tecnica quindi ci servirebbe che cosa ci servirebbe da dove ci troviamo adesso una lag di almeno un 3-4% insomma portarci qua sopra un 4% non è poco si tratta comunque di 1000 dollari ma comunque non impossibile bitcoin ci ha abituato a ben altro se pensate solamente questa giornata qui è andata a fare un più 2,7 più un 1,48 più o meno quello che ci serve in due giornate lo ha fatto siamo a giovedì abbiamo ancora un paio di giorni prima di entrare nel weekend insomma teniamolo monitorato è molto importante Ethereum è andato invece ad essere un pochino più positivo sta andando a recuperare un po' di più aggressivo questo dump finale ma in realtà è anche un po' la dominance che è andata leggermente a scaricare è andata leggermente a dare più a favore di Ethereum un altro dato molto interessante è quello dell'open interest che sta andando in lateralizzazione ma che comunque non tende ad abbassarsi molto tende ad andare a liquidare principalmente metà e metà long e short ma si sono aperti nell'ultimo periodo un po' più di long questo lo vedete sui sugli open interest e quindi di conseguenza staremo a vedere insomma il mercato il sentiment sta leggermente nel breve termine ruotando soprattutto un po' per questa questione che probabilmente potrebbe lasciarci alle porte molti molti dubbi è ovvio che chi vuole comprare su un eventuale sconto a mercato di FTX capite che è interessante diventa ancora più interessante quindi i ragionamenti nel mercato sono spesso molto difficili da interpretare proprio per questo motivo qui però in ogni caso se avete un piano una strategia o comunque vi sto appunto parlando di come interpreto io le cose di solito non avete particolari problemi perché sapete cosa aspettarvi sia nel caso up sia nel caso down e come reagire di conseguenza quello è fondamentale altrimenti si naviga a vista e in questo settore navigare a vista è estremamente complesso e perdete soldi ve l'ho già detto più e più volte soprattutto grazie ai segnali magici non esisto detto questo ancora una volta mi fermo fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto vi è piaciuto vi è piaciuto riceverli ogni mattina vi ricordo di arrucchiare anche il link che trovate questo in descrizione noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video intanto vi saluto e vi auguro buona giornata ciao ragazzi